Vorrei iniziare con una precisazione logica, ma bisogna farla perché troppo spesso si sente dire che tutti possono entrare in contatto con le energie sottili. Per certi versi è vero, però bisogna capire in che senso. Bisogna avere una vera predisposizione alla percezione delle energie sottili. Facciamo un esempio. Tutti possono imparare a disegnare, a dipingere o a suonare il piano, suonare la tromba, però potranno essere dei bravi disegnatori, dei bravi suonatori, ma non saranno artisti se non hanno la vena artistica dentro. Quindi lo stesso vale per la percezione del sottile. Potranno anche allenarsi, ma con che cosa risuoneranno le persone che non sono preposte ad avere questi contatti? Noi sappiamo che dentro di noi abbiamo un movimento di voci continuo. La voce interiore, che a volte molto per i bambini veniva disegnata come l'angioletto e il diavoletto, però fra gli angeli, tra virgolette, ce ne sono tanti, di tanti tipi, e fra i diavoli ce ne sono tanti, ci sono anche quelli che in effetti non sono davvero entità, ma sono semplicemente voci dei propri movimenti psicologici interiori. Quindi certo tutti possono arrivare a percepire, a canalizzare tutto, ma come con gli artisti, se manca quella consistenza davvero spirituale, i risultati saranno la conseguenza di tale mancanza interiore. Per cui di nuovo tengo a sottolineare che non tutto quello che viene dal mondo dell'invisibile è da considerarsi valido. Dipende tantissimo dal tipo di antenna che sta ricevendo tali messaggi. Sono comunque pochi quelli che hanno una percezione pulita, direi quasi innocente, non interferita dalle bassezze della personalità umana non ancora abbastanza evoluta. Sono pochi, ma ce ne sono. Quindi adesso mi rivolgo a quelli che davvero sono predisposti alla percezione di energie sottili e hanno un'antenna pulita. Le prime volte che si hanno tali percezioni spesso accadono da bambini. Si pensa che tutti abbiano tali caratteristiche perché noi ce li ritroviamo innate. Poi piano piano si scopre che gli altri invece, la maggior parte, non hanno quel tipo di sensibilità. Il passo successivo per alcuni è quello di incominciare ad approfondire tali loro capacità di percezione. Si entra quindi in un mondo in cui bisogna avanzare con grande cautela perché è davvero aprire una porta sull'ignoto. Anche se noi questo ignoto lo avevamo già dentro dalla nostra nascita, ci siamo cresciuti con questi movimenti interiori che sembravano normali. Quando consapevolmente si inizia una ricerca più approfondita su queste percezioni che si hanno, le percezioni possono aumentare a dismisura e noi possiamo essere letteralmente investiti da onde possenti di energie che il nostro sistema deve imparare a gestire, a metabolizzare e poi anche a utilizzare. Quindi il primo impatto è davvero molto potente, imponente, solo che quanto più noi evolviamo tanto più il nostro sistema cambia, si trasforma, tutto è trasformazione, tutto è mutamento del resto, se non fosse così non ci sarebbe la vita. Di conseguenza dopo un po' la percezione così imponente che abbiamo avuto si perde. La maggior parte che cosa fa? Continua a reiterare la memoria emozionale che aveva, che aveva sviluppato durante questi contatti, così che crea una grande forma pensiero che aumenta sempre di più tutte le volte che la continua a riproporre, ma che in effetti sebbene la persona ritorni in quello stato tra virgolette energetico è solo una memoria, non è nuova energia che arriva, è un continuare a riproporre l'energia ricevuta a un tempo che quindi è come un circolo vizioso, si continua a girare attorno sempre rimestando la stessa minestra. La qualità energetica, ovvero se vogliamo il sapore di questa minestra, è vecchio, non apporta davvero vera nuova energia, è semplicemente un continuare a rimanere nel ricordo. Come quando si pensa a qualche evento particolarmente bello che ci ha riempito il cuore di gioia e tutto e lo si continua a rivivere, siamo sempre lì, ma è roba vecchia, non è roba che porta nuova energia. Così con questi contatti con l'energia sottile nel momento che noi abbiamo perso quella potenza di ricezione è molto normale, scontato, che ci si rifaccia alla memoria e quindi alle emozioni che venivano ed è per questo che poi si va magari da questi canalizzatori o quant'altro, questi terapeuti che fanno pulizie sottili o tutto questo mondo qua e ci si ritrova ad avere consigli di una banalità esasperante. Cose note, stranote che si ritrovano in tutti i libri New Age e che fanno riferimento a testi, non so, religiosi che da cui hanno attinto le frasi di stimolo a fare meglio, che poi continuando a ripeterle sempre le stesse, sempre con le stesse tonalità, sempre la stessa cosa, non hanno più effetto, sono vecchie, è davvero una minestra vecchia, vecchia, vecchia. Però alla maggior parte delle persone vanno bene perché comunque non sono ancora arrivate a fare proprie certe leggi universali che per altri è roba da bambini dell'asilo. Ma ognuno ha i suoi tempi, non è da condannare il piccolo che sta facendo i suoi primi esperimenti di pittura, di disegno o di quant'altro. Quindi davvero c'è da rispettare i tempi di ognuno. Riprendendo il discorso della percezione delle energie sottili che cambia con la nostra crescita interiore, adesso mi rivolgo a quelli appunto che al posto di ritirare le memorie e stare a vivere sempre rimestando la stessa minestra, si aprono a capire che cosa sta succedendo ed è un momento tremendo questo perché le percezioni che facevano parte di noi fin da prima, fin dall'inizio, non le percepiamo più e davvero è come se ci mancasse una parte di noi, fluttuiamo. Nella nostra ansia e preoccupazioni del fatto che certe percezioni che ci sono state di sostegno da sempre non le percepiamo più, non ci rendiamo conto che si sta formando qualcosa di nuovo. per cui disperati cerchiamo di capire cosa fare, in che modalità interiore ci si debba mettere e questo sforzo costa tantissima energia. In più non abbiamo più lo scudo, diciamo così, di quelle percezioni, connessioni interiori per cui in questo momento siamo estremamente vulnerabili e delicati e poiché siamo vulnerabili e delicati in quei momenti ce ne capitano di tutti i colori. Come si suol dire nel nostro organismo ci sono tantissimi batteri che potrebbero essere nocivi ma finché il terreno è sano questi batteri non ci fanno nulla. Nel momento che il nostro terreno, il nostro stato si indebolisce ecco che questi batteri approfittano della situazione per diventare attivi e succhiarci, vampirizzarci. Lo stesso accade quando c'è questo passaggio vibrazionale. In questo passaggio vibrazionale tantissime cose non ci vanno più bene ma anche tipo il cibo. Il cibo si cambiano le preferenze, si tende a sentire come piacevoli e soddisfacenti cibi più leggeri e più sani e più genuini, più semplici. Proprio perché il fisico si sta preparando a entrare in sintonia con energie sottili più raffinate quindi il sistema che è pronto si sta elevando e quindi sceglie cose che gli facilitano il divenire più tra virgolette leggero. Questo periodo di transizione può durare più o meno tempo, dipende da come lo vive la persona. Se la persona lo vive con angoscia perché non capisce che cosa le sta succedendo può essere che ci metta più tempo proprio perché è teso, è rigidito, spaventato anche. In più si trova a confrontarsi con sfide fisiche di fatiche, di malanni, oltre che sfide psicologiche perché appunto sono i batteri che prima stavano quieti, i batteri psicologici e che ora invece fanno i gradassi. Se invece si sta più quieti e si aspetta e si lascia che il sistema si prepari, quindi allora il tempo per fare questa trasformazione interiore, trasformazione frequenziale interiore diminuisce e a un certo punto, così come per incanto, la nuova connessione arriva, la nuova percezione arriva e questa volta è subito evidente che si tratta di una percezione meno imponente, però più sottile e più profonda e con questo inizia il nuovo viaggio interiore alla scoperta di questa nuova percezione energetica, alla scoperta di come farla diventare totalmente propria, come allargarla nel proprio sistema e poi come utilizzarla per il tempo che rimarrà, perché ovviamente noi siamo esseri in costante evoluzione, quindi una volta terminato di esplorare tutte le possibilità di questo nuovo tipo di connessione e percezione è chiaro che arriverà il prossimo e ci sarà di nuovo il passaggio con le fatiche di cui ho appena parlato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!